E per iniziare il nostro racconto, ho il piacere di ritrovare qui nella nostra postazione vicino al nodo, al presidio artigiano della città di Piderolo, abbiamo con noi la vice sindaca Francesca Costarelli. Francesca, buongiorno, ben ritrovata. Ciao, buongiorno, grazie a voi. Ciao Claudio, ciao RBI. Allora, è una bella giornata di sole, siamo pronti per vivere questa estate 2024, siamo vicini al nodo. Io l'ho definito il presidio artigiano della città di Piderolo e del Piderolese. È fatto benissimo perché nasce proprio così e continua appunto la sua storia sotto questa veste, però ci tengo anche a ricordare che ogni anno inventa qualcosa di nuovo. E quest'anno, ogni primo sabato del mese, ha inventato il Fresh Market, quindi una giornata in cui non solo troverete gli artigiani, gli artisti, le artiste che solitamente vivono nodo, che sono ormai 11, ma ospitiamo anche ad invito quegli artigiani, quelle innovazioni, quelle cose che si scoprono su Pinterest, su Instagram, un po' da tutta Italia e che insomma ci colpiscono e le ospitiamo appunto qua una volta al mese. Quindi si esce dall'Instagram, si esce dal Pinterest, dal Facebook per toccare con le proprie mani e con la realtà quello che è il saper fare. Sì, infatti non solo ovviamente per acquisti, ma anche per dei laboratori, dei workshop, quelli li trovate davvero tutti i sabati. Andiamo dalla calligrafia al tetrapack, alla ceramica, alla sartoria e da questo punto di vista è davvero un presidio artigiano perché non solo si può trovare qualcosa e dunque per un regalo, per la propria casa, ma anche proprio provare a mettere le mani in pasta. Bello, mi piace molto il saper fare, mettere le mani in pasta e soprattutto è un'attività che ormai è consolidata, sono il quarto anno forse del nodo. Ecco, è da anni insomma che esiste la tradizione della fiera di primavera di cui tra poco parleremo, è un appuntamento che si terrà appunto tra pochi giorni qui a Pinerolo, ma più imminente il 21 di aprile. C'è un altro spazio che sta per riaprire sotto un'altra veste. Sì, esattamente, domenica 21 aprile alle ore 17.30, ne aspettiamo per l'inaugurazione di Sant'Agostino. In realtà già chiesa di Santa Maria Liberatrice, una chiesa particolare perché è una chiesa sconsacrata, ma una chiesa del popolo. Nasce in effetti durante il periodo della peste per ringraziare proprio la Madonna per aver liberato da quel tremendo momento. Perché è particolare? Perché del popolo? Perché il popolo si era proprio autotassato e quindi ecco perché la chiesa diventa comunale, rimane comunale, e cioè di tutti e di tutte. Per entrare in questa chiesa che cosa si può fare? Io mi ricordo che una volta si entrava, c'erano delle mostre temporanee, dei spettacoli, delle performance. Che cosa è cambiato? Qual è la novità? Allora, questo capiterà ancora, però la novità è che siamo riusciti ad entrare dentro al progetto Chiesa Porta Aperte, che conta ormai più di 50 locali, 50 particolarità, ma in particolare a Pinerolo ne abbiamo due. La prima è la chiesetta di Santa Lucia, la cappella di Santa Lucia alle Vigne, e l'altra appunto che inaugureremo domenica è questa di Sant'Agostino. La particolarità è che ogni giorno, dalle 9 del mattino alle 18.30, scaricando l'app Chiesa Porta Aperte, sarà possibile entrare nella chiesa e visitarla in quattro lingue. E c'è anche un cameo, una chicca, un video di Alessandro Barbero che ci parla e ci racconta della Pinerolo francese, i 120 anni della Pinerol. Oh, meraviglioso, quindi c'è questa app da scaricare, con la quale si può accedere a questi luoghi, da scoprire e da ritrovare. Ritroveremo nei prossimi giorni la fiera di primavera, un appuntamento che è stato rinnovato recentemente e che sarà rilanciato per l'edizione 2024. Vediamo qua, eccolo qua, domenica 28 di aprile con Pinerolo in sella, di cui tra poco parleremo, però prima di tutto il format, chiamiamolo così, il programma di fiera di primavera. Eccolo qua. Sì, allora, domenica 28 aprile, vi aspettiamo dalle 8 del mattino fino alle 22, avremo di tutto di più. Diciamo che ci sarà un prequel perché dal 25 al 28 avremo lo street food roller track in Largo Lecchio. Ovviamente già da alcuni giorni abbiamo il grande Luna Park in Piazza Terzo Alpini, ma quella domenica lì poi andremo davvero a vivere tutta la città. Siamo di fronte a Nodo, ovviamente sarà aperto, qui sotto i viali avremo Mani Creative, la novità di questa edizione Fiori e Primizie e poi la particolarità lanciata solo lo scorso anno, e quindi siamo alla seconda edizione, di più di 300 banchi, tutti lungo Corso Torino e Stradale Fenestrelle. Da questo punto di vista, mi raccomando, guardate bene dove parcheggiare. Ci sono degli ampi parcheggi, zona ospedale, zona stazione, zona Pinerola Olimpica, ovviamente anche Piazza Fontana, detta da noi così, ma Piazza Vittorio Veneto sarà uno spazio per accogliervi, perché in realtà poi tutto il giorno siete invitati invece a camminare, a godervi la città, passeggiando su questa lunghissima passeggiata commerciale di più di due chilometri, che sarà animata da cavalli in piazza d'armi, più di 120, ma su questo lascerò raccontare meglio alla project manager Amalia Pagliaro, ma in realtà la maschera di ferro dentro al museo di cavalleria, un'inaugurazione in pinacoteca, laboratori qui a Nodo, il Petit Velot, quindi piccoli percorsi per bimbi 06 in Piazza Facta, le macchine in pedale in Piazza Santa Croce, i grandi giochi giganti di legno in Piazza San Donato, tanta musica e tante novità. Insomma, la vera è proprio a festa, fiera ma anche festa, una festa di primavera che è stata rilanciata. Per chiudere, Francesca, questo blocco dedicato alla fiera di primavera, che significato ha il rilancio di questo appuntamento che è avvenuto già l'anno scorso e quale può essere il suo possibile futuro? L'anno scorso abbiamo visto che è un settore che ha difficoltà, ci troviamo questa mattina nel nostro meraviglioso mercato, a cui vi invitiamo sempre a partecipare il mercoledì e il sabato, un settore, appunto, dicevo, in difficoltà, soprattutto dopo gli anni del Covid. Commercio, intendi? Il commercio, ma in particolare il commercio ambulante. Ha veramente, invece, ancora un'anima viva, che va riscoperta e va sostenuta. L'idea, appunto, del rilancio della fiera è di metterli in centro alla strada, anche proprio simbolicamente, trasformandoli in un'attrazione principale, quindi non l'attrazione principale, un concerto o qualcos'altro, ma ciò che prima sembrava il corollario, invece, è il nodo focale. Quindi i nostri ambulanti con, appunto, ripeto, più di 300 attività che raccontano tanti tipi diversi di possibilità di acquisto, ma anche di conoscenza. Insomma, quindi, un ritrovare, un rilanciare il commercio ambulante e le attività all'aperto, outdoor, dall'equitazione alla musica, allo street food, insomma, tutte queste informazioni sono disponibili sul sito della città di Pinerolo? Assolutamente sì, sul sito. L'idea è stata cercare di mettere insieme l'identità di Pinerolo, appunto, quella del mercato, della passeggiata commerciale, insieme al cavallo, insieme alla bicicletta. Le nostre identità, diciamo, portanti. Vedo che tra, insomma, i promotori di questo appuntamento della Fiera di Primavera c'è anche la Proloco di Pinerolo che tra poco incontreremo con la persona, insomma, che coordina ed è responsabile di tutto questo bel progetto. Grazie, Francesca, per essere stata con noi. Dove stai andando in questo momento? So che stai fuggendo. Sì, sto scappando al Fab Lab di Pinerolo e ti ringrazio per la domanda perché il Fab Lab, nato come Team Lab, quindi come spazio di accoglienza con macchinari a controllo numerico, quindi da stampanti 3D, vinilcat, lasercat, falegnameria, diciamo, la tradizione che incontra davvero l'innovazione, si è trasformato da alcuni mesi in Fab Lab. Questo significa che è aperto, libero e gratuito per chiunque volesse andare tutti i giovedì dalle 16.30 alle 21, ma mi raccomando, seguite la pagina su Instagram, fablab underscore Pinerolo, perché ci sono tante novità, per esempio il sabato mattina, molto spesso organizziamo dei laboratori gratuiti, in questo caso con la cucitrice elettronica. Quindi, qualsiasi persona, insomma, può andare, adulti, ragazzi, ragazze, dalle 16.30 alle 21 ogni giovedì al Parasporti di... Al Paraghiaccio di Pinerolo in Piazza Europa 1. Ok. Benissimo, anche queste informazioni, immagino, siano presenti sul sito della città di Pinerolo. Abbiamo avuto il piacere di conversare con Francesca Costarelli, vice sindaca della città di Pinerolo, per tutto ciò che accadrà, insomma, il WhatsApp e quello che sarà nel prossimo futuro in città, qui a Pinerolo. Grazie Francesca, buon lavoro. Grazie mille a voi, ciao Caffè Bleu. Amici e amiche di RBA, siamo in diretta dal mercato di Pinerolo, un vero e proprio agorà, una piazza colorata, piena di sapori, gusti, colori, spezie, insomma, tutto ciò che può nutrire il nostro senso della meraviglia. Noi per questo siamo qui, abbiamo scelto di ritornare finalmente in Piazza Pinerolo, un appuntamento che vi anticipo, vorremmo, insomma, mantenere fisso ogni fine mercoledì, ogni fine mese, l'ultimo mercoledì del mese, saremo qui al mercato di Pinerolo e questo fa parte degli appuntamenti dei 40 anni di RBA e fateci gli auguri, fateci il buon compleanno, scriveteci al 328-8757-845 oppure contattateci attraverso i social o su YouTube, dove troverete in tutti i video anche la registrazione di questa diretta. Abbiamo parlato poco fa della fiera di primavera, tra gli appuntamenti di questo appuntamento, appunto di questo evento del 28 di aprile, c'è anche Pinerolo in sella. e ho il piacere di presentare Pinerolo in sella, che cos'è, cosa rappresenta per Pinerolo, insieme alla persona che ha curato questo progetto, Amalia Pagliero. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ben arrivata, Amalia. Allora, Pinerolo in sella, innanzitutto ricorderei che Pinerolo è stata, è ancora, la città della cavalleria, non solo per il museo storico della cavalleria, ma per una tradizione di equitazione, di innovazione anche della cavalcata. Ricordiamo il grande Caprilli che inventò, insomma, e rivoluzionò il modo di vivere, il rapporto tra essere umano e cavallo. Tutto questo penso che sia un po' il punto di partenza di Pinerolo in sella. È il punto di partenza perché ha voluto sottolineare proprio l'equitazione, l'equitazione in ogni sua disciplina, senza distinzione. L'equitazione, il rispetto per il cavallo, il divertirsi insieme al cavallo, l'agonismo insieme al cavallo. Quindi tutto il mondo che circonda il cavallo è l'equitazione. È stato un appuntamento voluto, fortemente voluto, al quale hanno risposto tutti i circoli ipici del territorio. Questo perché c'era tanta voglia di ritornare alla piazza d'armi di Pinerolo dove si sono svolti i grandi concorsi ipici internazionali dove è passato tutto il mondo da piazza d'armi. Tutti si ricordano Pinerolo con i suoi concorsi ipici ereditati da Federico Caprilli, maestro capitano dell'equitazione. Ecco, ricordiamo Caprilli. È lui che, ho detto prima in apertura, Amalia, che è lui che rivoluzionò il modo di cavalcare. Insomma, ciò che vediamo oggi nel modo di cavalcare, di vivere questo rapporto tra l'essere umano e il cavallo, insomma, lo dobbiamo a Caprilli, immagino. Sì, perché rivoluzionò è la parola giusta, nel senso che insegnò proprio al nuovo modo di montare a cavallo e di dividere insieme al cavallo il modo di cavalcare. Quindi da tutto il mondo mandarono allievi, e parliamo principalmente dell'esercito, a imparare a montare a cavallo con il nuovo metodo di Federico Caprilli. Amalia, Pinerolo in sella. Torniamo a bomba, diciamo così, in topic su Pinerolo in sella, questo appuntamento che fa parte della fiera di primavera, ricordo ancora domenica 28 di aprile. Piazza d'armi, che cosa proporrà Pinerolo in sella in particolare? Potremmo toccare con mano, vivere questa esperienza dell'equitazione, del rapporto con il cavallo e i cavalli? Assolutamente sì, ed è quello l'obiettivo che la manifestazione vuole dare. Vuole fare, toccare con mano, vedere da vicino e anche cavalcare, perché abbiamo dato la possibilità, insieme a diversi circoli ipici, la possibilità di, con il battesimo della sella, di montare a cavallo. Questo l'avevamo già fatto per i bambini, ma quest'anno lo proponiamo anche per gli adulti, perché tante famiglie, accompagnando i bambini a provare queste ebrezze di montare a cavallo sui poni, andavano via con un certo desiderio. E quest'anno ci sarà anche il cavallo, bravo, per i cavalieri non esperti che vogliono salire in sella, montare in sella. Quindi, insomma, poi c'è una terapia proprio dedicata, l'ipoterapia mi sembra che si chiama. L'ipoterapia è un'altra area dedicata alle persone meno fortunate, portatori di handicap, dove c'è tutta una gestione della loro, purtroppo, menomazione, e quindi aiuta, insomma, aiuta tantissimo, perché sono da sempre rilevati i risultati che il cavallo trasmette alla persona più bisognosa. Ecco, possiamo provare tutto questo, questo rapporto con il cavallo, in generale, insomma, il mondo dell'equitazione, in questo appuntamento di domenica 28 aprile, in chiusura, Amalia, diamo qualche orario, a che ora, da che ora, a che ora, insomma, potremmo vivere questa esperienza, toccar con mano, insomma, Piderolo in sella. Allora, alle 10, 10 del mattino, 10 del mattino, dall'inizio della fiera, partirà una sfilata di mini poni, si chiamano Falabella, che accompagneranno l'assessore Costarelli fino a Piazza Darmi, quindi una bellissima sfilata. Da dove? Da qui? Dal Museo della Cavalleria, ok. Dal Museo della Cavalleria fino a Piazza Darmi. In Piazza Darmi ci saranno gli attori principali di questa edizione che creano una identità che si ripeterà per ogni anno. L'identità del 2024 è creata dai cavalli maremmani. Saranno presenti i butteri della maremma che arrivano da Tuscania e che dimostreranno tutta la qualità che ha questo cavallo, nell'insieme degli ingressi degli altri circoli ipici. Bello. I butteri sono, adesso ho detto proprio facile, banalizzando, possiamo definire un po' come i cowboy del più o meno della maremma. Sono uomini che lavorano con il cavallo, sono allevatori, sono uomini che salgono al cavallo alla mattina e scendono alla sera. È una realtà molto, molto, molto presente e sono l'identità del 2024. Questa identità si ripeterà nel corso degli anni e il 2025 vedrà una nuova presentazione di una nuova razza di cavalli. Senza dimenticare, siamo partiti da una razza italiana, senza dimenticare le realtà anche straniere, soprattutto per la monta anche americana che è ormai molto presente. Amalia, una nuova razza, è in chiusura, una nuova razza, c'è una nuova razza di cavalli? Ha parlato di una nuova razza? No, una nuova razza. Ci sarà una nel 2025, una diversa, diversa, mi spiego meglio, una diversa razza e ogni anno sarà caratterizzato da una razza differente di cavallo. Benissimo, quindi insomma un modo per riscoprire questo mondo del cavallo, del rapporto tra essere umano e cavallo a tutte le età, evidentemente, dai bambini e bambine fino agli adulti. Pinerolo in sella, città di Pinerolo, tutte le informazioni le trovate appunto sui social della città di Pinerolo e poi vi basta digitare Pinerolo in sella per avere tutte le informazioni dalle 10 del mattino in avanti. Abbiamo avuto il piacere di parlare di questo appuntamento con Amalia Pagliaro, che ringrazio ancora. Buona giornata, ci vediamo domenica a Pinerolo in sella. Grazie a tutti, vi aspettiamo. Arrivederci. Amici e amiche di RBA, sono le 12.46 minuti, qui e ora da Piazza Vittorio Veneto, la piazza del mercato, il mercato del mercoledì, mercoledì 17 aprile, in diretta, proprio alle nostre spalle si trova il nodo, il presidio artigiano che abbiamo presentato poco fa in apertura della nostra trasmissione di RBA Radio, RBA TV, canale 87, digitale terrestre, ovunque vi siate su rba.it, il nostro sito appena rinnovato con una nuova versione grafica, i contenuti sono sempre gli stessi, anzi cercheremo di migliorarli sempre di più, vi invito a seguire ad esempio il canale YouTube di RBA per ritrovare tutti i nostri contenuti. Stiamo parlando della fiera di primavera e di tutto ciò che accadrà nei prossimi giorni a Pinerolo, nel Pinerolese, quando parliamo di Pinerolo non possiamo non ricordare, ed è un piacere ritrovare, gli amici e le amiche della Proloco di Pinerolo, con noi il presidente Andrea Roggia. Andrea, buongiorno. Buongiorno a te Claudio, buongiorno a tutti, ti ringrazio per l'invito. Grazie a te per essere qui con noi. Proloco di Pinerolo, abbiamo parlato poco fa accennando a uno degli impegni della Proloco, ad esempio per l'imminente fiera di primavera del 28 di aprile, ma questa è solo una delle attività della Proloco, un'attività che vuole proporre varie iniziative per un pubblico davvero vasto, di tutta l'età. Esatto, allora io ringrazio l'amministrazione perché ci coinvolge sempre, ci permette di fare quello che a noi piace fare. E quindi per la fiera di primavera noi collaboriamo per riuscire appunto nella parte logistica, in più abbiamo come progetto portiamo avanti quello di Bimbin Fiera con tre punti per bambini, Piazza Facta con i monopattini di centro giochi educativo, Piazza San Donato con la Sportica e i loro giochi giganti in legno e su Santa Croce macchinina pedali della Tumake Events. Quindi dai bambini agli adulti e non solo giochi, non solo intrattenimento, si può anche intrattenere ad esempio con la cultura. So che nel vostro spazio, Palazzo Vittone, c'è uno spazio appunto delle sale dedicate ad esempio alle esposizioni di opere, insomma avete già ospitato diversi artisti e diversi artisti nei vostri spazi, lo farete ancora nei prossimi giorni? Esattamente, allora tutto questo parte dal 72, nel 1972 Ezio Giai e Marchiando Pacchiola inaugurarono la sede della Proloco come saletta mostre anche. Questo discorso di filone culturale ha proseguito poi per diversi anni fino ad arenarsi negli anni 90. Io proprio dai racconti di Ezio Giai e di Marchiando Pacchiola ho voluto ripartire per riprendere questo filone culturale perché secondo me e secondo il direttivo che rappresento la Proloco non deve essere solo un'agenzia che organizza eventi e non vogliamo esserlo ma vogliamo portare avanti anche altri filoni. Il filone culturale per noi era molto importante quindi dall'anno scorso abbiamo iniziato a dedicare la saletta della Proloco alle mostre aperte al pubblico e l'anno scorso abbiamo collezionato 15 mostre tutte di artisti locali tutte basate per lo più sulla pittura e sulla fotografia quest'anno abbiamo riniziato con tre mostre attualmente c'è una mostra molto interessante che è aperta sabato pomeriggio e domenica sia mattina che pomeriggio che ricorda i 100 anni della RAI sia per la radio che i 70 anni della televisione con tutte apparecchiature vecchie che forse abbiamo visto dai nostri nonni ma addirittura ancora più vecchie e dopodiché proprio in occasione della fiera del 28 di aprile il 27 aprile inauguriamo una mostra di un fumettista e un ragazzo molto bravo a origini lui è nato a Mondovì si è stabilito a Pinerolo da un paio d'anni si chiama Andrea Ghiglia ha 27 anni e farà una mostra basata sia sui fumetti che sulle rappresentazioni di divise dei soldati che hanno combattuto la seconda guerra mondiale nelle nostre zone nelle nostre valli bello interessante molto interessante quindi inaugurazione il 27 di aprile sabato e poi ovviamente sarà aperta durante la giornata della fiera del 28 di aprile per avere tutte le informazioni per ritrovare tutti i vari contenuti e i vari ingredienti della ricetta di Proloco che ci hai raccontato Andrea cosa possiamo visitare ci sono i social della vostra della vostra Proloco sito della Proloco social social Facebook e Instagram per ritrovare tutto ciò che di bello sa proporre un motore culturale ed intrattenimento quale sa essere appunto la Proloco ricordiamo anche l'anno io 1957 insomma una vera e propria presenza fissa a Pinerolo con una serie di volontari volontarie io ricordo insomma davvero di tutta l'età ho visto sia ragazzi che persone adulte questo penso che sia davvero un valore e grazie per aver ricordato anche la figura non solo del coordinatore del consorzio di Palazzo Vittone ma anche soprattutto di Ezio Giai ti ringrazio noi lo salutiamo lo ricordiamo ancora grazie Andrea grazie a voi buona giornata Proloco di Pinerolo qui su RBE non solo per la fiera di Pinerolo ma anche per tutte le altre attività grazie Andrea musica amici e amiche di RBE torniamo in diretta per una puntata speciale di Café Bleu dalla piazza del mercato piazza Fontana piazza Vittorio Veneto siamo proprio vicino al municipio della città di Pinerolo e ho con me l'assessore alla cultura della città di Pinerolo il professor Franco Milanesi Franco buongiorno ben ritrovato buongiorno grazie un saluto a tutti e tutti insomma ci sono diversi appuntamenti che riguardano appunto il mondo della cultura a Pinerolo l'abbiamo accennato qualcuno insomma rispetto alle mostre a Palazzo Vittorio ma in particolare Franco vorrei ricordare ad esempio il programma che è dedicato alla resistenza prima ancora una mostra che so che sarà inaugurata questo sabato proprio a Pinerolo il 16 di aprile si grazie la mostra sarà inaugurata in realtà venerdì pomeriggio venerdì pomeriggio è una mostra presso la SOMS la società operaria del mutuo soccorso molto particolare e interessante perché riguarda il confino di Ustica quindi il luogo dove gli antifascisti e a Ustica passarono nomi importanti da Gramsci a Bordiga per intenderci venivano appunto confinati come oppositori politici attraverso ricordo neanche una sentenza passata in giudicata ma attraverso un atto di polizia era la polizia che direttamente li confinava presso Ustica quindi ci sarà una mostra mostra fotografica che resta aperta tre giorni venerdì sabato e domenica e inaugura diciamo apre poi le manifestazioni vere e proprie del 25 aprile ecco c'è sarà tutto un calendario che è disponibile appunto sul sito della città di Pinerolo e sui social ecco vorrei un pensiero sul valore della resistenza del 2024 il senso insomma di queste manifestazioni il ricordo nel 2024 insomma di questo momento importante per la storia del nostro paese certo io credo che la resistenza sia attualissima per un motivo non semplice ma fondamentale fondamentale nel senso radicale perché sta alla radice della nostra costituzione cioè la nostra costituzione nasce dalla lotta di liberazione nasce dai valori della resistenza che vengono implementati che vengono portati dentro la cornice costituzionale quindi questo è importantissimo perché la rende attuale ogni giorno cioè i motivi per cui migliaia di giovani e non giovani di donne di uomini fecero quella scelta precisa sono ancora attuali cioè sono attuali perché in qualche modo sono stati incarnati o li ritroviamo incarnati dentro il dettato costituzionale che regola regola nel senso che è norma della nostra esistenza di tutti i giorni ecco penso che parta anche da questi concetti parta da questo concetto l'idea di organizzare un calendario che sia sempre nuovo diciamo ogni anno per una città come Pinerolo e delle valli pinerolesi che sono state al centro anche di questa narrazione di questo importante appuntamento franco insomma sono tanti gli eventi che riguardano la cultura che si terranno a Pinerolo vi invitiamo ovviamente a visitare il sito della città di Pinerolo i social città di Pinerolo facebook e instagram per avere tutte le informazioni io ti ringrazio per essere stato con noi franco e ti auguro buon lavoro grazie mille amici e amiche di rb torniamo in diretta a Caffabello dal mercato di Pinerolo oltre a aver parlato di equitazione parliamo di un altro sport della vela che in questo momento si è trasformato in una vela il banner di rb alle nostre sfalle ma noi teniamo botta insomma cercheremo di navigare in questo mar insieme all'assessora allo sport della città di Pinerolo Bruna De Stefani ci c'è la calavera ma la grande anche con la vela adesso non so con la vela come si pensa ma il mare lo dobbiamo ancora un attimino il mare a Pinerolo però sarebbe tanta roba ci stiamo lavorando lavoriamo ad esempio per la montagna per la neve i sport invernali so che insomma Pinerolo si appresta insieme a Torino e altri luoghi della nostra provincia a ospitare le universiati universiati invernali 2025 Torino 2025 che in realtà vive già i suoi primi appuntamenti e il prossimo sarà davvero imminente imminentissimo questa sera verranno proprio la rappresentanza delle VUG quindi World University Game 2025 a presentare la mascotte proprio in consiglio comunale quindi è un invito a tutta la comunità di venire in comune a venire a conoscere Totag questa mascotte che è un mix tra il mondo normale il mondo digital è una cosa un po' diversa molto simpatica è il simbolo insomma la mascotte come dicevamo delle universiati invernali di Torino 2025 che toccheranno anche Pinerolo questa mascotte che verrà a trovarci qui al consiglio comunale a che ora che non sarà oggi? mercoledì 17 aprile alle 18.30 18.30 ok 18.30 qui tutte le indicazioni le trovate anche sul sito della città di Pinerolo sui social sia di Torino 2025 ma anche appunto della città di Pinerolo Facebook e Instagram l'appuntamento con le universiadi Bruna vorrei ricordare l'importanza di questo evento e del coinvolgimento di Pinerolo in che modo Pinerolo sarà coinvolta nelle universiadi? Pinerolo sarà coinvolta soprattutto palaghiaccio per l'hockey ma in realtà noi ci stiamo già muovendo per attività che sono correlate alla manifestazione quindi ci saranno già tipo a maggio ci sarà il festival della comunicazione e loro entreranno proprio nel vivo della loro presentazione con le scuole con varie attività poi dal 21 settembre di nuovo ci saranno nuove attività che a poco a poco ci portano a questo 13 gennaio che sarà proprio l'inizio ufficiale 13 gennaio 2025 l'inizio delle universiadi invernali ricordiamo sono i giochi in questo caso invernali dedicati ai sport invernali quindi ai studenti e alle studentesse che si cimenteranno negli sport invernali tra cui studenti, atleti perché sono e atleti caspita ricordiamo sono tutti atleti che lavorano in maniera professionale alle loro discipline 13 gennaio 2025 questa è la data d'inizio delle universiadi invernali Torino 2025 però appunto ci sarà tutto un calendario di appuntamenti che ci guiderà verso questo evento salutiamo anche gli amici e le amiche che stanno passando a trovarci che hanno ci hanno ascoltato con le casse grandi pollicioni su benissimo allora questo appuntamento è solo uno di quelli che vedranno la città di Pirolo coinvolta nell'organizzazione di questo appuntamento noi ti ringraziamo Bruno per essere stato con noi poi ci saranno altre realtà come lo sport in piazza come ce ne saranno tantissime da Porta Aperta allo Sport Porta Aperta per la Scuola loro saranno sempre presenti sul territorio anche perché è un modo per lanciare il nostro territorio che è meraviglioso lasciatemelo dire meraviglioso abbiamo tutto a Pinerolo e quindi vogliamo far conoscere al meglio ai questi studenti di tutto il mondo il nostro territorio anche dal punto di vista evidentemente dello sport in chiusura io ho visto con questo bel colore che indossi complimenti mi è venuta in mente la Just Women A.M. che abbiamo vissuto qui a marzo era un po' più fresca la giornata esatto non era proprio così con questo bel sole ma insomma io vorrei ricordare che una delle iniziative è appunto questa una delle iniziative della città di Pinerolo la Just Women A.M. ogni 8 marzo dintorni si tiene questa camminata corsa per il benessere per la salute contro il tumore quindi per finanziare la ricerca sul cancro a proposito di finanziamento e di fondi raccolti puoi ricordarci insomma l'importanza e quanto è stato raccolto in questa edizione del 2024 allora quest'anno abbiamo raccolto sui 10.000 euro quindi di nuovo grazie Pinerolo perché grazie anche al nostro contributo al nostro essere sempre presenti che riusciamo a dare il nostro aiuto piccolo aiuto ma che è sempre tantissimo per chi sta facendo ricerca beh insomma direi che è importante quindi con lo spot lo spot fa bene in tutti i sensi sempre Bruna grazie per essere stata con noi Bruna De Stefani stasessora allo sport della città di Pinerolo grazie ciao amici e amiche di RBI amici e amiche all'ascolto di RBI radio RBI TV siamo arrivati al termine della puntata di oggi di Caffa Belò prima diretta primaverile dal mercato di Pinerolo in questo 17 di aprile siamo di fronte al municipio davanti a noi Nodo in questo momento qui il mercato c'è un po' di vento diciamo una leggera brezza che ci sta portando via ma noi insomma in qualche modo l'abbiamo portata a casa abbiamo terminato il nostro racconto di tutto ciò che di bello accade a Pinerolo e cadrà a Pinerolo nei prossimi giorni una selezione di appuntamenti che ritroverete poi nei contenuti che vi condivideremo vi offriremo sui canali social di RBI in particolare sul canale YouTube di RBI che vi invito a seguire grazie a tutte e a tutti grazie ai tecnici Mattia Sesano e Matteo Crespo che hanno reso possibile questo appuntamento ringrazio le persone ospiti che ci hanno accompagnato in questa diretta di Caffa Belò io sono Claudio Petronella ed è stato piacere e sarei in vostra compagnia vi auguro di trovare anche oggi tanti bei motivi per sorridere ciao